Mentre gli altri paesi europei abbandonano le restrizioni contro il Covid facendo veramente ripartire le proprie economie ed eliminando tutte le discriminazioni e i pregiudizi verso una fascia di cittadini privi di colpe, nel nostro paese continuiamo ad avere green pass, obblighi vaccinali, didattica a distanza, tutta una serie di misure decisamente inadeguate, inutili e sproporzionate rispetto agli obiettivi che si dovevano raggiungere. Anche per questo sarò a Roma in piazza San Giovanni il 15 febbraio insieme al sindacato Fisi per protestare contro le misure del governo Draghi e rivendicare il diritto alla libertà individuale e all'uguaglianza di tutti i cittadini italiani. Vi aspetto.